La morte sui letti all'ospedale della consolazione, la morte lenta nel carcere. Secondo me capisci che cosa è stato a volonté se tu vedi Caravaggio. Cioè, vedere Caravaggio in televisione in quegli anni è la nascita dell'attore moderno in Italia. Su, cammina, avanti San Matteo. Ecco i salti del Caravaggio, che succede? Questo è il San Matteo secondo il Caravaggio, ma è una bestemmia vivente. San Matteo era un pubblicano, un docagnere. Uno! Ed era così! E il vero è mille volte più importante del vero! Il vero è un pubblicano, un pubblicano, un pubblicano, un pubblicano e un pubblicano. Un pubblicano a tutti i nostri freddi. Grazie a tutti.